che è una figura di spicco nel campo dell'impegno intellettuale e politico del mondo delle donne e che ha scritto, fra l'altro, su una figura che più sarda non potrebbe essere a contempo universale come Maria Grazia De Leda, un onore alla madre mi sembra, e che ha anche sviluppato molte ricerche sul campo dell'autorità femminile di quelli che si chiamavano gender studies, ma anche nella direzione dell'istituto di formazione per il lavoro delle donne e soprattutto, ecco, sarà un'interlocutrice, diciamo, particolarmente atta al compito di sostenere questa conversazione in quanto studiosa, in fondo, questo è uno dei ponti, diciamo, che la collegano all'altra nostra dialogante studiosa, fra le altre cose, di Simone Bailey e poi naturalmente di Maria Samprano, di Hanard le grandi, diciamo, metti, non so se si possa dire femminili, piuttosto filosofiche, ma incarnate in corpi di donne di questo nostro, anzi, del ormai passato secolo.